Buonasera, siamo qui con Lorenzo Macera, capitano dei figli di Fidele, che hanno appena vinto 5-1 contro la Comodi Branda. Una partita con pochi ostacoli, avete camminato dall'inizio alla fine? Sì, sì, fin dall'inizio comunque la partita non abbiamo avuto molti problemi. Abbiamo giocato, c'è la fine del primo tempo, stiamo 3-1, abbiamo rischiato un po', però alla fine abbiamo raggiunto la vittoria. Qualche errore di troppo in difesa, forse potevano sfruttare meglio gli avversari? Eh, ogni tanto abbiamo avuto qualche errore a parte di tutti noi, comunque forse per la precessiva fretta, però alla fine ce la siamo calata sempre bene. Fortunatamente vi faccio l'Andolfo, no? L'Andolfo sì, che non è il top. E senti, per concludere, a cosa punto questa squadra? Noi come ho già detto puntiamo la vittoria naturalmente, cercheremo di battere i Fosigli, poi era il Fosigli, poi siamo, comunque ci hanno battuto 5-1, secondo me è una delle poche squadre che ci può dare fino alla torcia. Vabbè, salutiamo un bacione, un bocca al lupo per il lupo. Ciao!